ragazze quale piacere di trovarvi a dare sul server mi ero dimenticato il cancello si è aperto non l'avete il cancello si è aperto appunto e basta messaggi messaggi sporci alla rupe alza la bandiera oh mio dio il panorami che bello che bello alza la bandiera con la bandiera non è la bandiera con la bandiera o finalmente la bandiera o che bastare non te l'aspettavi e guarda che faccia non ce l'aspetta cosa cosa io l'ho attaccato ma io lo attaccavo con un ascia più grande di lui si tu figlio di no 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 ti sei offrito ti sei offrito scusa si è morto è morto gemma alla finale tutto qui credo che demona perdi o qualcosa di simile ah no hanno liberato i cani liberate i cani chissà oh mio dio quanti morti ci sono oh ma dove sbucca sto cane devo trovare il modo di ucciderli ma come basta bestemmiare in greco si è morto finalmente troppami qualcosa di importante non mi troppo niente che cos'è questa roba io mi nascondo va bene e tu che ci fai qui a martello mi siete voluti no porca troia che casino che è successo qui che cavolo cos'è cos'è che mi è venuto che cavolo è starò mi stanno bersagliando di sicuro questa è la parte giusta e prendiamo un pentolone in mano vuole farci uno stufato come è strano che non ci sia nessuno vero bastardo via 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 si zag non serve a niente ma cosa sono che diavolo sono ho ancora venezia ma venezia ho comunque no no i topi no i topi no tutto ma noi topi ma cos'è una pantegana gigante com'è che mi ha ucciso un topi no 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 chiudete tutto sono morto per via di un topo sai che buona che è in pentola oh si si scappa scappa no avete visto che fine hanno fatto ah è ancora vivo sei ottimista non lo so sei ottimista come matura quando i do tipo dopo l'esame lo sai che quello passo due da vero uscito odiato malevetto e siamo morti e notto e si va beh ma solo che ma non ho tempo di combattere inami e combatere di quello siamo morti di nuovo conto un topo a mi ha preso mi ha preso e ne prese morto in pratica non ho capito infatti non ho capito un cazzo morto no nel 2 no cazzo che ti lasciano bere come sono no cadono castagne e muoio bene o male e siamo siamo già morti eccolo e uno e due su fa metà vita ce l'abbiamo quasi fatta non prendermi non prendermi grazie andiamo d'oscurità dai e dai però ma non puoi dare una chance sono appena arrivato si va bene non è vero e la mia cinquantesima boss fight con te non potresti avere un po' di pietà crepa mostro non è morto è morto è morto è morto è morto dopo anni di combattimenti abbiamo ucciso ok e adesso ah un falò un falò un falò crescono crescono ovunque ah seriamente siamo morti contro questo si ha preso a pentolate no dai tutto ma no contro i top pi ok facciamo schifo cazzo come siamo mezzo secondo morti ma no non è possibile l'abbiamo ucciso siamo morti anche noi oh cazzo quello cos'è bra e ok ok sono appena sono appena arrivato ok va bene va bene va bene va bene ok ok vado via vado vado e non posso odioso vorrei dire qualcosa ma credo che qualsiasi cosa io dicca si ritorca contro di me e tu si tu ah ok giovane ramo bianco che mica serve ok tu mi vede davvero stanca oh dove sei io dico una parola mezza parola via jump scare bravo sei bravo con la spada va bene posso concedertelo è morto ovviamente ho fatto non è il posto più sicuro per sedersi non credi si anch'io oh cosa cazzo è si 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 penso subito non potresti aiutarmi a combatterlo almeno solo questo non ti chiedo di ucciderlo ma di aiutarmi puoi anche scappare caggarti addosso ma basta che mi aiuti un'idea idea fallimentare porca puttana cazzo e va beh però ma così si esagera ed è morto cazzo si spada di irritil eh terrata dei sacrifici una rivelazione in pratica fallo acceso una rivelazione in pratica e sto qua che minchia è che cazzo oh che cavolo che è diventato un piccione oh cavolo sono preso paura oh cazzo no no anche te no si cavolo sono paura questi qua allora non sembrano pericolosi fino adesso allora ci sono due che tramano vendetta e quello che sta è quello lì che fa il quello là che fa il dittatore abusivo oh cavolo e questo chi è questo chi cavolo non ci credo è caduto è morto no non spero non mi aveva droppato niente di cappuccio aromatura vabbè brigante ah è là eccolo là adesso luce allora io cerco di andare a prenderlo ok eh ma che cazzo ah era un miniboss non c'è più mannaio no ho capito l'oggetto che è finito lì in fondo me l'ho rimesso qua vedo che vi fa danno di qualcosa giù vattene su no sono tu guarda dove è uscito ok ok via no porca putt perché ti sei girato con chi è qualcuno se siete lì potete cercare le mie orecchie perché l'ho persa io attacco nel dubbio in tutte le direzioni in cui poteva rotolare hai rotolato eh sì 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 vabbè vado via vado via non ti piace non ti piace vabbè hai finito di attaccarmi basta così e basta cos'è che ho detto non sembrano pericolosi fino adesso ma il cloud delle pute verso ho visto ne ho visto un'altra ne ho visto un'altra ne ho visto un'altra oh fa uno fanno tutti qualcavolo oh cazzo via 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 su un corridoio almeno guarda come arriva porca no ora capite perché tutti odiano sto gioco allora ho un'idea sì andiamo tutti a prenderci un caffè e stiamo calmi va bene va bene io non sono costretto a uccidermi neanche voi siete costretti a uccidermi e lo fammo lo stesso però basta andiamo a riprenderci no c'è scherzata non ce la faccio più sono stanco abbiate pazienza ci rivediamo nel prossimo episodio e continuate a seguirci e osservate la grandezza dello scudo più grande quanto me cavolo epilatic attack e stavo dicendo ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti